oceani a largo di tutti con gli ottima partenza e cerca di andare al comando insiste oceania passa su pedro nobile poi via via tutti gli altri va lì impiegata punta subito in avanti il pedro si va al completamento del lancio in 15 e mezzo freeway per alonso nino pedro con il buon ciccarelli e così guida già dopo 300 metri di gara 400 iniziali nell'ordine del 33 e viene via la villani con la sua ganimè d'odi degli olivi che punta in avanti cavalli che affrontano la seconda curva e si completano i 600 nell'ordine del 46 e 2 allargo anche prado nella scia di odi e viene via anche nievoz nella scia di prado pedro e odi degli olivi in pole position mezzo miglio iniziale in 1 2 e mezzo e davanti alle tribune quindi tre pariglie con odi sempre a largo di pedro alonso nino si completa il primo chilometro sul mio nell'ordine del 17 e 7 e cavalli che affrontano la penultima curva con il daguerapide di ciccarelli con all'argo la ganimè degli villani mezzo miglio la conclusione frazioni in 15 e mezzo impiegata ha avuto problemi ogni voze che il retrocesso mentre prado interessato segue la scia di odi degli olivi paletto dei 600 finali 13 e 9 addirittura di fronte ci fa sul serio ora con odi sempre alle costole del leader avali che affrontano la curva finale ci timbra il miglio in 2 1 e 7 pedro odi prado chiuso oceanio m ma prado viene richiesto avali al completamento e la curva finale tenta lo stacco pedro odi agli al largo non c'è spazio per oceania torna aggressivo prado trova il barco oceania ed è lei oceania barco giusto al momento giusto pedro odi degli olivi io 2 30 e mezzo vi abbiamo detto non c'era spazio per oceania come ha trovato la luce il buon mineo il buon salvatore mineo spiazza tutti trova un un autostrado quasi di dentro e fa secco gli avversari secondo un generoso pedro terzo un amminevole odi degli olivi i numeri 5 3 8 salvatore mineo bravo e fortunato fortunato e bravo linea lo studio la quota al totalizzatore 3 21 1 1 2 2 3 3 6 6 8 9 9 9 9 10